tra i migliori rappresentanti della giovane scuola artistica del nuovo mondo troviamo benjamin west originario della pennsylvania si formò in patria come ritrattista si trasferì poi in italia dove si specializzò nella realizzazione di dipinti a soggetto storico la sua impeccabile cultura figurativa e il pieno controllo stilistico vengono sanciti anche da riconoscimenti pubblici e dalle cariche ufficiali nel 1763 si stabilì in gran bretagna dove ottenne un grande successo in numerosi incarichi ufficiali nel 1772 succedete a joshua reynolds come presidente della royal academy of arts notevole fu anche la sua influenza nello sviluppo della pittura negli stati uniti presso il suo studio di londra si formarono infatti numerosi artisti americani per esempio gilbert stewart ha collaborato alla stesura del libro di john galt the life and studies of benjamin west mentre l'europa si muoveva verso il neoclassicismo e l'ennesima rivisitazione dei miti degli eroi dell'antichità gli americani mettono in scena un'epica contemporanea fatta di personaggi che appartengono alla cronaca del momento ai fatti di guerra per l'indipendenza al difficile contatto con le popolazioni indiane in quest'opera era figurato charles wilson pale scrittore orologiaio statunitense allievo di benjamin west nella sua vita prima di scoprire la pittura fu anche soldato e naturalista e svolse molte altre attività qui però lo vediamo chiaramente ritratto in veste di pittore con tanto di pennellino d'obbligo la composizione nel suo insieme è molto equilibrata sia nell'uso quasi fotografico della luce che nel contrapporre i colori primari rosso per lo sfondo e verde per la giacca del pittore la flessibilità dello stile di west si adatta a incorniciare nobilmente la composizione dei molteplici soggetti trattati con penetrante realismo tutto in una commistione di riferimenti che vanno da van dieck a poussen a rubens fino a salvator rosa il racconto epico e le attese ideali dell'arte accademica si sposano in west con l'urgenza della narrazione cronachistica dell'impegno a visualizzare la conoscenza degli eventi storici benjamin west è sicuramente da mettere tra gli artisti da riscoprire e da conoscere se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando grazie a tutti grazie a tutti